Buongiorno a tutti, sono Serena Fonso Grande, consulente di GTER e vi do benvenuto al nuovo job break di oggi che ha come oggetto il calco delle varianze idrauliche. Abbiamo in collegamento il dottor Antonio Annis che ci illustrerà tutta la teoria, le formule e ciò che riguarda il calco delle varianze idrauliche. Il calco delle varianze idrauliche sul quale GTER ha sviluppato nella piattaforma G-Sourcing un apposito applicativo. Do pertanto adesso la parola ad Antonio Annis e iniziamo il job break. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Io sono Antonio Annis, sono un ingegnere idraulico e sono amministratore unico di Gridit RS e SRL, una start-up innovativa che sviluppa prodotti di rischio idrogeologico di gestione delle risorse idriche. Qui ho il piacere di contribuire a questo job break in quanto insieme a GTER abbiamo sviluppato un applicativo per il calcolo automatico dei volumi di compenso al fine di ottenere l'invarianza idraulica. Il mio ruolo ci sarà di introdurre brevemente il principio di invarianza idraulica. Parleremo delle normative che riguardano le varianze idrauliche all'interno del distretto dell'Apennino centrale e poi passerò la parola al dottor Sarino Grande il quale vi illustrerà un applicativo che in automatico sarà in grado di applicare tali normative al fine di definire quelli che sono dei volumi di progettazione per l'invarianza idraulica. Entrerei più nel merito, ho delle slide da condividere. Allora, questo è più o meno il sommario del mio intervento, quindi inizio a definire l'invarianza idraulica, faccio una panoramica di quelle che sono le normative all'interno del distretto dell'Apennino centrale, che è poi l'ambito territoriale all'interno del quale l'applicativo Digiter opera. E poi andiamo nello specifico, senza entrare eccessivamente nei dettagli, altrimenti richiederebbe troppo tempo, però diamo una introduzione alle linee guida della regione Lazio che riguardano il rispetto del principio di invarianza idraulica e le norme tecniche di attuazione del piano di assetto idrogeologico PS5 del distretto dell'Apenninice centrale, che è quello che riguarda il tratto del fiume Tevere da Castel Giubileo, dentro Roma, a La Foce. Allora, che cos'è l'invarianza idraulica? Anzitutto è un principio secondo il cui, nel momento in cui si fa una trasformazione territoriale, quindi una edificazione, una urbanizzazione, le portate dovute alle piogge intense che cadono all'interno di un lotto oggetto di trasformazione, post trasformazione, non devono superare le portate antetrasformazione. Questo perché? Perché ovviamente non vogliamo aggravare quelle che sono ad esempio le reti fognarie, che sono state progettate per una certa configurazione urbana, e che quindi non vogliamo che vadano in crisi nel momento in cui l'urbanizzazione, quindi le condizioni del contorno cambiano, e le ociusive urbanizzazioni possano in qualche modo mettere in crisi le reti fognarie durante i periodi di pioggia intense. Cosa bisogna fare? Quindi bisogna prevedere, contestualmente all'urbanizzazione, delle opere di compensazione che possano ritardare il deflusso in fogna, ad esempio. Ci sono varie metodologie per fare questo. La più utilizzata sicuramente è l'utilizzo di vasche di compenso, quindi di volumi che raccolgono le acque nella zona oggetto di urbanizzazione, in parte la stoccano, in parte la rilasciano a valle, quindi che può essere un corpo idrico recettore oppure una rete fognaria. Questo cosa comporta? Che le portate che entrano nel corpo idrico recettore o nella rete fognaria si abbassano in quanto i volumi di compenso regolano le portate che arrivano appunto nel corpo idrico recettore o nella fogna. Ci sono anche altre misure di compensazione basate su diversi principi, vi cito qua le soluzioni verdi, ad esempio giardini pluviali, cellule di bioritenzione che sono sostanzialmente molto simili e che hanno la stessa funzione, quindi le acque meteoriche possono essere infiltrate e quindi ritardano il loro deflusso in fogna. Ci sono le punete vegetate che essendo non cementate lo stesso costituiscono un ritardo al deflusso, le eterici ad infiltrazione che hanno dei volumi che permettono lo stoccaggio di acqua, i tetti verdi, anche le disconnessioni pluviali possono avere questa funzione in quanto le acque invece di andare dritte in sfogna devono prima infiltrarsi all'interno dei prati verdi, ad esempio delle zone verdi nei pressi di un edificio, le pavimentazioni permeabili oppure anche i serbatoi di raccolta delle acque pluviali. Alcuni di questi, come ad esempio i serbatoi di raccolta, le trincene di infiltrazione, i giardini pluviali e i tetti verdi, costituiscono comunque delle misure che prevedono appunto l'adozione di volumi in surplus proprio per il ritardo del deflusso in fogna. Quindi diciamo il progettista, la prima cosa che deve fare il progettista per il rispetto del principio di invarianza idraulica è calcolare questi volumi, questi volumi di compenso per il rispetto dell'invarianza idraulica. A livello regionale, diciamo relativamente di recente, ci sono delle nuove normative che prescrivono delle specificazioni da compiere nel rispetto dell'invarianza idraulica. Sicuramente all'interno del distretto dell'Apenino centrale, quelle che risalteranno maggiormente sono Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio e Marche. Anche Abruzzo ha delle norme che citano le necessità del rispetto dell'invarianza idraulica, ma per quanto riguarda il dettaglio delle prescrizioni, sicuramente Emilia Romagna, Lazio e Marche sono quelle di maggior dettaglio. E tra l'altro le tre normative tra loro sono quasi identiche e quindi i criteri da adottare sono i medesimi e che vedremo più avanti. Oltre alle normative regionali all'interno del distretto, ovviamente c'è anche una normativa del distretto dell'Apenino centrale, quella che ho citato prima del PS5, quindi il piano di stralcio per il tratto metropolitano di Roma da Castel Giubileo alla Foce, quindi delle norme tecniche di attuazione da adottare solo in quel contesto territoriale e poi anche il consorzio di bonifica litorale nord, che occupa diciamo in varie zone del Lazio, tra cui anche la zona fociva del fiume Tevere, delle zone di bonifica, a delle istruzioni per la richiesta di parere idraulico. Oggi noi focalizziamo l'attenzione soprattutto sulla norma della regione Lazio, che come abbiamo detto sono in qualche modo sovrapponibili a quelle della regione Emilia Romagna e della regione Marche, e poi citeremo anche quelle del PS5. Partiamo dalla norma attuazione della regione Lazio, non entreremo eccessivamente nel dettaglio per questioni di tempo, ma vi vogliamo giusto dare un accenno al principio di queste norme. Ovviamente sono norme che prevedono che le portate massime di deflusso meteorico, come abbiamo detto, post-trasformazione, non superano quelli di antetrasformazione. Quindi gli enti che operano all'interno della regione Lazio devono sicuramente, diciamo laddove presenti, utilizzare delle norme a livello distrettuale, però devono comunque tener conto anche di quelle regionali, come queste della regione Lazio. Le norme, quindi i criteri di compensazione, cambiano a seconda del tipo di intervento. abbiamo intervento trascurabile, sia inferiore a 0,1 ettari, modesto, significativo o marcato, a seconda sia della dimensione della trasformazione, ma anche del grado di impermeabilità. Quindi una trasformazione significativa o un intervento di classe significativa o marcata, a seconda sia della sua dimensione, sia anche del livello di impermeabilizzazione post-intervento. Quindi che cosa deve fare il progettista? Deve effettuare uno studio idrologico-idraulico che comporti il fatto che le portate massime di deflusso post-trasformazione non superano quelle di antetrasformazioni, attraverso delle azioni compensative. E qui viene in gioco anche l'applicativo di C-Term, che permette di effettuare delle operazioni automatiche per la stima dei volumi di progettazione. Quindi a portata di click l'utente può stimare un volume di compenso nel rispetto delle norme vigenti all'interno del distretto. Ovviamente, come vi ho detto, i criteri cambiano a seconda sia del tipo di intervento, se si ha a che fare con una modesta impermeabilizzazione, quindi inferiore all'ettaro, occorre applicare un metodo specifico che si chiama metodo di invaso, e poi vengono date anche delle prescrizioni sul tubo di scarico dei volumi e sui tiranti idrici all'interno delle vasche. Nel caso di significativa impermeabilizzazione non si adotta più il metodo dell'invaso, ma si occorre proprio fare un studio ideologico più specifico in cui si calcolano le piogge intense caratterizzate da tempo di ritorno di 30 anni, si deve definire una durata minima di pioggia, e sulla base di questa pioggia di progetto, che deve avere questa durata minima e questo tempo di ritorno, si determinano le portate post-opram e anti-opram, e sulla base della differenza degli idrogrammi è possibile definire un volume di compenso atto a ridurre la portata post-opram in modo che non superi quella anti-opram. Nel caso di marcata impermeabilizzazione, cioè si parla di interventi superiori a 10 ettari, in questo caso non basta il calcolo delle portate massime, ma ancora fare uno studio idrologico-idraulico di maggior dettaglio. Qui in slide vi ho riportato i vari passaggi, non ne entreremo nel dettaglio, ma basta giusto sapere che bisogna proprio definire degli idrogrammi di piena, sia del corpo idrico recettore nel quale scaricherà la zona oggetto di trasformazione, sia l'idrogramma della zona oggetto di trasformazione, quindi bisogna fare uno studio ben più approfondito, che non è neanche oggetto dell'applicativo, che invece permette di poter effettuare un calcolo dei volumi nel caso le trasformazioni siano inferiori alle marcate. Dunque, riprendendo il caso della modesta trasformazione, vi abbiamo anche riportato quella che è la formula dell'invaso, la quale permette di definire questo volume di compenso sulla base di una serie di parametri di progettazione, che sono ad esempio la quota parte dell'area oggetto di intervento interessata dalla trasformazione, la quota parte dell'area oggetto di intervento non interessata dalla trasformazione, poi dei coefficienti phi e phi zero, che sono semplicemente dei coefficienti di deflusso ante e post trasformazione, un n che è un coefficiente associato alle cosiddette curve di possibilità più biometriche, che sono quelle curve che permettono di definire le piogge intense di progetto sintetiche, quindi associate a un certo tempo di ritorno, a una certa durata, e poi c'è anche questo volume di riferimento V zero, W zero, che può assumere tre valori a seconda del tipo di territorio, cioè ad esempio ci sono i territori di bonifica, i territori urbani non impermeabilizzati e urbani impermeabilizzati, quindi sono dei valori tabellati secondo la normativa. Andando velocemente anche a parlare delle norme tecniche di attuazione, allora anzitutto le norme di attuazione parlano sia di compatibilità idraulica sia di invarianza idraulica, che sono due principi completamente diversi. di compatibilità idraulica si parla delle possibili interferenze tra le opere urbanizzate e le fasce perimetrate idrauliche, quindi le zone a rischio e le zone di pericolosità idraulica, mentre invece si parla nello specifico di invarianza idraulica, che è il principio che abbiamo illustrato prima. E all'interno della parte riguardante l'invarianza idraulica, anche qua si fa una classificazione degli interventi a seconda delle superfici di intervento. Anche in questo caso si parla di dimensione marginale, modesta e significativa marcata, però attenzione che non c'è una specificazione sul grado di impermeabilizzazione, mentre in precedente avevamo visto che significativa e marcata avevano una differenzazione anche riguardante la percentuale di suolo urbanizzato impermeabilizzato nella configurazione post-operamato. L'altra distinzione che fa l'NTA del PS5, quindi l'onorme di attuazione del piano di assetto idrogeologico dell'area metropolitana da Castel Giubileo alla Foce, è la classificazione dei sottobacini. È il principio secondo cui se un sottobacino ha un certo grado di urbanizzazione la sua risposta idraulica sarà diversa e quindi bisogna tener conto di anche questa classificazione per i criteri di rispetto del principio di varianza idraulica. Quindi ci sono tre classificazioni, CL1, CL2 e CL3, andando da 1 a 3 a seconda del grado di urbanizzazione dei bacini stessi. Nel momento in cui si opera all'interno dell'ambito di pertinenza del PS5, però si hanno in fuori questi bacini, si adotta la classe CL2, cioè quella intermedia. Poi invece tutti i bacini che nelle zone di bonifica fanno parte della zona CL3, quindi la zona diciamo più critica in cui poi vedremo che le norme sono anche più severe. Nel caso di classe CL1, quindi la più basta, nel caso in cui si ha una dimensione di intervento significativa e marcata, per entrambi i casi le portate post-operam non devono superare le portate anti-operam, così come erano anche per le norme della regione Lazio. Però attenzione che il tempo di ritorno di progetto non è più 30 anni ma 50 anni e poi non viene identificata neanche una durata minima della pioggia. Quindi il progettista può considerare delle durate critiche differenti, ad esempio 30 minuti, un'ora, due ore, tre ore, eccetera, e poi definire quella che è l'idrogramma di piena critico che dalle maggiori portate di picco. Per quanto riguarda invece la classe CL2, cioè quella intermedia, nel caso di dimensione marcata c'è una differenziazione rispetto alla classe CL1, cioè non basta che la portata non superi post-operam, non superi quella anti-operam, ma deve essere il 25% inferiore. e nel caso CL3, quindi classe CL3, questa riduzione nel caso di dimensione di intervento marcata è del 50%, quindi ancora più restrittiva. Abbiamo detto che la classe CL3 è quella che caratterizza i bacini più urbanizzati o più cric-cittici, come ad esempio le zone di bonifica in cui le falde sono solitamente vicine al piano campagna e quindi il grado di impermeabilizzazione rispettiva al grado di saturazione del suor può essere molto alta già a inizio evento di pioggia. La parte diciamo di introduzione della normativa è finita, considerate che tutta questa parte che vi ho spiegato molto velocemente per questione di tempo viene automatizzata all'interno dell'applicativo che il dottor Grande adesso vi illustrerà. Io ho finito, grazie per l'attenzione. Bene, grazie Antonio. a termine del mio intervento ci sarà spazio sicuramente per qualche domanda e adesso procediamo con mostrare il nostro applicativo che di fatto è praticamente basato sull'intero sistema G-hosting quindi ha un'architettura basata su Docker momento che condivido lo schermo qua dovrebbe essere visibile la mia schermata date conferma cortesemente si è visibile ok allora su sito internet adback gter.it vedete l'applicativo riportato si entra chiaramente con username e password è basato su questa architettura che è l'architettura del nostro prodotto G-hosting quindi c'è un applicativo Docker che fa girare un web processing di vari software tra cui il PostGIS il LeedsMap un ambiente cloud per i nostri dati Nescloud e tutto viene poi caricato all'interno di questi sistemi container e il nostro web G-S appare sul browser all'utente finale fatta questa operazione il risultato che ne viene fuori è un'interfaccia come questa che vedete qui riportata dove cliccando su un progetto caricato ci appare una mappa ci viene dato un messaggio di benvenuto e i dati che vedete qui mostrati riguardano adesso l'Italia centrale ma questo principio di funzionamento è valido per qualunque regione come ci ha indicato Antonio Annis poco prima e vediamo come è fatto l'applicativo vero e proprio allora l'applicativo è composto da diversi componenti layer che vedete qui evidenziati due dei quali vengono già dati selezionati sono i confini regionali un DTM e la classificazione a cui faceva riferimento dottor Antonio Annis prima vedete sono tutte delle aree già censite quindi già esiste un file vettoriale che contiene delle informazioni poi abbiamo un DTM che è a scopo rappresentativo ma in realtà ci fornisce anche dei dati a livello tabellare vedete le aree in azzurro sono le aree più basse di quota mentre le aree in giallo verde sono le aree più alte in quota e come funziona l'applicativo si lascia selezionato il DEM e questo tipo di impostazione e si clicca su questo pulsante calco delle varianze idrauliche verrà aperta una finestra pop up di questo tipo dove vedete appare un cursore verde che è il nostro target quindi ci dà la possibilità di selezionare una regione piuttosto che un'altra facciamo una prova a selezionare la regione Marche vedete ci compaiono tutti i dati che riguardano la regione Marche la quota la latitudine la longitudine il tipo di zona la SZO VAPI e poi noi possiamo inserire i parametri manuali dell'area che dobbiamo studiare per il nostro calcolo di varianza idraulica io adesso ho segnalato le Marche ma come ho segnalato le Marche potevo segnalare il Lazio o un'altra regione è indifferente alcune località sono censite automaticamente quindi compare automaticamente anche il nome della località la banca dati che ci fornisce informazione sulla longitude e la latitudine e di conseguenza la località è un praticamente un file WMS che si appoggia su OpenStreetMap quindi le informazioni vengono da font OpenStreet mentre la mappa che avete qui riportato in basso è una mappa di Google classica e quindi vediamo subito come effettuare il calcolo di varianza idraulica inventata chiaramente perché facciamo un caso ipotetico quindi clicchiamo su un punto qui della regione Lazio abbiamo ottenuto l'altitudine e la longitudine il tipo di zona B e cominciamo a compilare il primo dato che dobbiamo inserire e l'area espressa in ettari supponiamo che ci siano 6 6 ettari un'area che ha un intervento al 2% mettiamo qui un altro valore casuale 10 e un altro valore qui 2 valori casuali e stiamo soltanto per mostrare come funziona l'applicativo poi scegliamo quale di queste tre voci ci interessa territorio di bonifiche territorio non impermeabilizzato oppure territorio impermeabilizzato in ambito urbano prendiamo impermeabilizzato in area urbana per esempio e poi questi due parametri che sono parametri standard che vanno lasciati così clicchiamo sul summit diamo qualche seconda all'applicativo e ci verrà mostrato una finestra pop up con il risultato del del calcolo ecco qua ho cliccato più di una volta che c'è qualche problema di linea ecco qui scusate c'è qualche problema di linea ho cliccato più volte stamattina team ci sta facendo qualche scherzetto ecco qui il risultato dei nostri dati e quindi abbiamo nella zona nel primo riquadro la leggenda c'è tutto quanto quello che noi abbiamo considerato nel pop up che avevo visto poi abbiamo i dati forniti che sono quelli che alcuni di questi sono stati acquisiti da software in automatico quando abbiamo cliccato sul punto altri sono quelli che abbiamo inserito manualmente e quindi questi sono i risultati ci viene mostrata anche una carta del punto in cui abbiamo cliccato e vedete poi abbiamo la tabella dell'analisi geologica con tutti i valori a 30 anni a 50 anni a 200 anni abbiamo i valori di ps5 che sono quelli che ci ha indicato il dottor annis prima abbiamo riferimenti di l'analisi l'altezza del pioggia lord in millimetri la classificazione in ante operam e il post operam e quindi abbiamo ottenuto questo risultato da questa interfaccia che come dicevo prima basata su gs hosting quindi possiamo dire che è un web gs è un modulo web gs di gs hosting nel quale noi possiamo andare a effettuare i calcoli come meglio otteniamo adesso abbiamo preso la regione Lazio supponiamo di prendere la regione Umbria stesso principio diamo il clic i valori ai parametri magari l'Umbria no perché la stessa zona era B in Lazio anche l'Umbria prendiamo un'altra area prendiamo questa qui che è la regione Abruzzo e facciamo lasciamo gli stessi parametri diamo Summit andiamo Sarino io metterei anche come area impermeabile post-Opera una percentuale anche superiore rispetto all'ante-Opera anche così diciamo è la configurazione più tradizionale allora vediamo subito di fare come ci ha consigliato Antonio quindi mettiamo qui al post-Opera 25 magari che può andare bene e vediamo il nuovo Summit aspettate aspettate un attimo che si era già partito un calcolo facciamo fare il calcolo andiamo qualche secondo e otteniamo il risultato aspettate un po' di attesa perché come dicevo prima ci sono dei problemi di linea ricarichiamo perché c'è qualche difficoltà con la linea quindi può essere che un refresh non basta abbiamo preso la regione Abruzzo abbiamo su questo un'area di non mi ricordo quanto era i net rifacciamo che sia di 6 come era Dima aggetto di intervento abbiamo detto 2% qua abbiamo detto mettiamo 4 qui mettiamo di più 25 territorio in ambito impermeabilizzato diciamo summit e ok ecco il risultato ed ecco la tabella che è venuta fuori riferita al punto cliccato in regione Abruzzo e quindi come vedete ci sono tutti i dati riportati esattamente calcolati in maniera abbastanza rapida diciamo e quindi questa è sostanzialmente il core del nostro applicativo altri elementi che possono essere di interesse dell'applicativo sono la mappa di panoramica qui riportata e se poi uno vuole verificare i dati tra la tabella può andare su spegnere tutti i layer e selezionare i layer direttamente da qui e quindi visualizzare per esempio che noi avevamo cliccato la regione Abruzzo in questo punto se non mi ricordo male ed era di tipo C quindi bisogna trovare C2 eccolo qua C2 questa è una zona tipo C2 e quindi questo applicativo funziona in questa maniera noi possiamo impostare questo discorso su qualunque regione italiana per farlo abbiamo bisogno chiaramente di alcuni dati che sono le normative naturalmente ma già quelle che abbiamo introdotto in questo applicativo sono soddisfacenti e i file di modelli di elevazione digitale del terreno e quindi dei livelli di quota unitamente a un file geocode che contiene al suo interno tutta una serie di informazioni a carattere stradale è possibile recarsi sul posto direttamente usando anziché il cursore verde che avete visto prima è possibile inserire qui nel comando cerca la via per esempio inseriamo via Cristoforo Colombo Roma ora cerca ed ecco che ci viene passato subito una serie di indirizzi vediamo eccolo qui vediamo un po' Roma ok ed ecco che ci veniamo portati direttamente sul punto bene allora io non ho altro da aggiungere perché l'applicativo si spiega sostanzialmente da sé quindi se volete possiamo procedere con le domande bene allora credo che non ci siano domande al momento non ne sono arrivate va bene se è così noi possiamo chiudere comunque il nostro geobreak ringraziamo il dottor Antonio Hannis per la sua preziosissima collaborazione e per la sua consulenza vi informiamo che questo era il geobreak ultimo del 2023 ne terremo un altro all'inizio del prossimo anno e quindi noi di Giter vi salutiamo salutiamo il dottor Antonio Hannis e buon proseguimento di giornata salve grazie 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 a tutti